1 e 20 secondi, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Il DDL ZAN sull'omotransfobia affonda in Senato. L'Aula dice sì con il voto segreto alla proposta di Leghe e Fratelli d'Italia di non procedere all'esame dei singoli articoli, la cosiddetta tagliola che di fatto ha bloccato l'iter della legge. Tra le forze politiche favorevoli mancano almeno 15-16 voti rispetto a quelli ipotizzati. Il testo era stato approvato dalla Camera e ora bisognerà ripartire in commissione non prima di sei mesi. Sentiamo. Il centrodestra, al termine di un dibattito molto teso, consegue l'obiettivo che si era prefissato alla vigilia. Affossare il disegno di Legge ZAN e il provvedimento contro la omotransfobia già approvato alla Camera il 4 novembre del 2020. Infatti il Senato approva con voto segreto la richiesta di Fratelli d'Italia e Lega di non votare articolo per articolo, ma direttamente all'intero provvedimento, un meccanismo conosciuto come tagliola. I sì sono 154, i no 131, due gli astenuti, non mancano i franchi tiratori, almeno 40. Dure le dichiarazioni in aula, il PD che ha presentato il testo e lo ha sostenuto con 5 Stelle e l'EU accuse il centrodestra di non aver voluto mediare, nonostante le aperture di letta. Una lettura contestata dal Carroccio e dal gruppo di Giorgia Meloni che invece definiscono una disponibilità di facciata a quella DEM. Il dibattito è vivace anche sulla decisione del Presidente del Senato di concedere il voto segreto non condivisa dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, ma Castellati difende la sua decisione con regolamento alla mano e riferimenti a precedenti simili. Al termine della votazione Salvini dice il DDL è stato affossato dai calcoli sbagliati del PD, anche Forza Italia parla di rigidità ideologiche, Meloni denuncia folli contraddizioni del disegno di legge. Dalla parte opposta Letta scrive Sì, oggi hanno vinto loro e i loro inguacchi, ma il Paese da un'altra parte si vedrà. Per Giuseppe Conte si tratta di un passo indietro del Parlamento rispetto alla maturità del Paese. Nel CDM di oggi ha approvato il decreto per accelerare e semplificare l'attuazione del PNRR. Definite le misure attuative del Recovery Plan, intanto la riforma delle pensioni rischia di alimentare tensioni fra Governo e Parti Sociali dopo la mobilitazione annunciata dai sindacati alla termine dell'incontro di ieri a Palazzo Chigi. Domani il Consiglio dei Ministri sulla manovra, tra le ipotesi, quota 102 solo per il prossimo anno. Definire i dettagli e superare le divergenze sulla manovra finanziaria del prossimo anno, che non solo è la prima dell'era Draghi, ma viaggia di pari passo con l'altro grande piano di ripresa economica, quello europeo. Sono state ore concitate quelle di oggi. Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle 15, poco più di un'ora e ha dato il via libera al decreto legge che definisce le misure attuative del Recovery Plan. Misure che dovranno semplificare l'attuazione dei piani. Un comitato scientifico apposito gestirà la spenda in review, sarà presieduto dal ragioniere generale dello Stato che lavorerà insieme ai dirigenti dei ministeri coinvolti, alla segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e ai rappresentanti di Banca Italia, Istat, Corte dei Conti. Un paio d'ore dopo, via con un altro vertice a Palazzo Chigi, si riunisce la cabina di regia presieduta dal Premier Draghi. La legge di bilancio da 23,4 miliardi approda domani in Consiglio dei Ministri. Il tempo è poco per superare tutti gli scogli. C'è il tema tasse, 8 miliardi per tagliarle, ma a chi non sono? Solo i sindacati a sostenere che la manovra, così com'è, non definisce i perimetri degli interventi. Troppo vaga ancora. Il reddito di cittadinanza, poi, ci saranno 800 milioni per prorogarlo. Si inaspiriranno i controlli e l'assegno andrà via via calando dopo due proposte di lavoro rifiutate, di quanto però ancora è da definire. E poi il nodo pensioni dalla cabina di regia è emersa la proposta di superare quota 100 con quota 102 per il 2022. 64 anni di età più 38 di contributi. Il Premier insiste su un graduale ripristino della legge Fornero. CGL, Cisle e Will sono pronte allo sciopero generale. Nuova emergenza maltempo a Catania. Il miglioramento delle condizioni potrebbe durare fino a domani, ma da venerdì ci si attende un peggioramento sensibile. L'allarme viene dal capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, al termine di una riunione nella prefettura della città. Intanto il governo della regione siciliana ha deliberato lo stato di emergenza. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha telefonato questa mattina al Sindaco di Catania per avere informazioni sulla grave emergenza e per esprimere la sua vicinanza alla città. Chiudiamo con il calcio. Torno infrasettimanale in Serie A, decima giornata. Vincono Inter, Roma, Atalanta e Lazio. Pesante stop per la Juventus, sconfitta a Torino dal Sassuolo. Una ricaduta che apre uno scenario imprevisto per la Juventus. L'obiettivo era di riprendere subito il feeling con i tre punti, che invece la formazione di Allegri implode e si ritrova impietosamente a 13 punti dal Milan capolista dopo 10 giornate. Il tecnico schiera il miglior potenziale offensivo contro il Sassuolo, proponendo insieme Di Bala, Chiesa e Morata. Il gioco non decolla. Di Bala crea la sua maniera, ma trova solo il palo. Prima della fine del tempo arriva il secondo gol consecutivo in Serie A dell'ottimo Frattesi, con una penetrazione perfetta. La Juve alla ricerca del pareggio spinge, ma è disordinata. Però il colpo di testa di McKennie rimette le cose a posto. Il tempo per vincere ci sarebbe, però la manovra è frenetica e la doccia gelata arriva al 95esimo, con Berardi che apre il campo per Maxime Lopez, elegante e razionale con il pallonetto che elude Perin. Si rilancia subito all'Atalanta dopo la beffa subita dall'Udinese e passa sul campo della Sampdoria, che sblocca la partita con il graffio di Caputo, che aggredisce la profondità su invito di Torsby. I Bergamaschi, guidati in panchina da Gritti al posto di Gasperini squalificato, avviano presto la rimonta con uno zapata molto vivo. I centravanti prima costringe l'autogol a Schilzen. Poi ancora sul limite di Zappacosta dalla fascia, svetta di potenza tra i centrali. A firmare la sentenza ci pensa Ilicic con la sua classe, inventando una di quelle traiettorie che gli appartengono. Per l'Udinese la vittoria a questa sconosciuta, manca adesso da sette giornate. Contro il Verona sembra la volta buona, quando dopo tre minuti il nigeriano Saxes vive un debutto rasogno come titolare. I frulani hanno il demerito di non chiuderla e nel finale sfuma la gioia per il rigore che Barak trasforma superando l'ex compagno dell'Ellas, Silvestri.